Io personalmente ho una domanda da fare. Essere insultata e coloniato le fa male? Non è questo il punto. Non ci crede neanche mia madre. Non può dire sempre la stessa cosa. Ecco, questo è un insulto. Io e lei discutiamo fin troppo. E capisce a dove voglio arrivare. In mezz'ora si può dire tanto. Io ho ancora due domande. In un'ora molto di più. Sono curiosa. Mezz'ora in più con Lucia Annunziata. Domenica alle 14.30. Rai 3.